L'occupazione è uno dei problemi più gravi di questa città e della sud Italia, quali sono le proposte che può mai fare un candidato sindaco? Oggi parliamo di contratti di programma rispetto ai quali vogliamo avere e pretendiamo di avere un ruolo attivo. Parliamo di investimenti sul nostro territorio da parte della Regione Puglia a supporto di progetti per una montare di 180 milioni di euro rispetto ai quali la Regione Puglia finanzia, cofinanzia nella misura di 50 milioni di euro. Sono cifre importanti e tanto più che questo potrà avere una ricaduta in termini occupazionali garantendo nuovi posti di lavoro per 250-300 posti. Speriamo che anche grazie a questi interventi si possa finalmente dare una risposta all'emergenza occupazionale e alle vertenze che sono sul tavolo aperte da troppi anni. Speriamo che la politica riesca ad avere un ruolo fondamentale perché sinora la politica regionale è stata piuttosto scollegata, non c'è stato un buon collante tra politica regionale e politica degli enti locali. Se da un lato infatti la Regione si impegna e ci garantisce questa importante forma di finanziamento, dall'altro torna a discutere ancora una volta il tavolo delle vertenze aperte da tantissimo tempo. È il momento di fare in modo che politica regionale e politica locale possano trovare di comune accorto le soluzioni ai problemi del nostro territorio. Qualora lei dovesse vincere però non sarete in linea con il governo regionale, almeno stando così le cose, quindi vuole fare un appello? Assolutamente, il mio appello è proprio quello di avere un ruolo fondamentale, noi dobbiamo pretenderlo perché ci spetta, perché è un investimento di denaro pubblico che deve dare risposte al nostro territorio.